I momenti di formazione sono sempre importanti perché vuol dire che i ragazzi vanno all'interno del mercato del lavoro. Momenti come quello di oggi sono fondamentali per costruire quello che è il vostro futuro affiancando a una formazione scolastica che sicuramente vi dà nozioni ma che di fatto è anche un luogo che vi insegna a vivere perché la scuola grazie agli insegnanti e al lavoro stupendo che fanno con voi ragazzi è un mondo dove si impara veramente a vivere ad affrontare la vita però poi quando si esce da quel mondo lì inizia la vita reale e bisogna entrare all'interno del mondo del lavoro dove nessuno ovviamente vi regala nulla. Quindi un percorso dove vi si spiega come scrivere un curriculum come rapportarsi al mondo delle aziende è un momento importante di formazione quindi mi raccomando fatene tesoro e anche noi come città di Grugliasco ovviamente siamo felici e speriamo che possiate costruirvi un'ottima vita e carriera lavorativa.